Roberta scusami ti ho preso per il c***o no senti che ti ho preso per il c***o per il rapporto che c'è stato con te per come siamo usciti, quando siamo usciti quando sono stato presente con te ti ho preso per il c***o è una domanda per quello che mi è rimasto no non mi hai preso in giro la conoscenza è solo nell'attimo che esci o è tutto scusami la conoscenza è solo quando esci ma infatti e allora rispondi come si tiene e lo rispondi come se perché lui è convinto che ha ragione ho fatto i miei errori io ho fatto i miei errori e fa recuperare un numero altra fa recuperare lei perché stai vincendo con tutti quanti fa recuperare lei ma chi ha spietto scusami ma se tu domani mattina vai via da qui ma io se me devo andare se Maria decide che me devo andare domani mattina e me ne vado e che fai non la cerchi più a Roberta non la fai recuperare più a Roberta non la recuperare più approvvita del tempo che hai qui per recuperare con lei se ti piace non hai aspettato domani ma che stai dice mai di innamorato ma ti erano numerati in questione al centro studio ma hai innamorato hai fatto un casino con Gianluca con Lucrezia io voglio stare con Lucrezia Lucrezia non la fai recuperare più a Luca questo è il mio non la fai recuperare più a questa è la fai recuperare più appresa a stessi che è che 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 che